Giocatore che alla Pirlo, rimanendo in chiave a Milan, in questo caso vede giocate che altri giocatori, soprattutto della sua età, non vedono. Da questo punto di vista è già sulla retta via, vi faccio vedere la giocata per capire meglio di cosa stiamo parlando. Riceve lì la palla in una zona teoricamente anonima, ma legge bene il movimento del compagno di squadra che concluderà appunto in rete. Yassin Adli, Milan, operazione che ha l'obiettivo di andare a migliorare quella che è la tre quarti milanista, ed ovviamente quello che si stanno chiedendo molti appassionati di calcio e non appassionati di cinema, motori, sicuramente quello o quell'altro è ma questo giocatore è adatto al gioco di Pioli? È forte o non è forte? Ovviamente in questo video andremo ad analizzare quelle che sono le qualità del giocatore, quello che fa bene, quello che fa meno bene, però prima di iniziare come sempre ricordatevi di iscrivervi al canale, attivare la campanella per le notifiche e lasciare un like al video che ovviamente aiuta sempre, passate i suoi miscouting per quanto riguarda tutti gli altri social, il sito internet per i corsi di match analysis e scouting, volete diventare osservatori, match analyst, data analyst, trovate tutte le info qui in basso in descrizione, lo stesso per quanto riguarda Instagram, Facebook, Twitter, Twitch, oggi in live con estrazioni premi, scouting, chi più ne ha più ne mette, il gruppo Telegram dove siamo quasi 400, ma, 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 iniziamo con la ciccia. Chie Adli, giocatore francese che attualmente gioca nel Bordeaux, che però ha passato tutta la trafila di quelle che sono le squadre giovanili del Paris Saint-Germain, discorso analogo per quello che è stato il suo cammino nella nazionale francese, praticamente tutte le giovanili della nazionale, però ovviamente passiamo a qualche dato che ci fornisce come sempre Instat, partner ufficiale dei nostri corsi. Ragazzi, statistiche alla mano, vediamo che tipo di giocatore è. Innanzitutto è un classe 2000, giovanissimo, 21 anni, piede destro, è un giocatore mediano, barra centrocampista centrale, io aggiungerei barra trequartista, è quello il ruolo che interessa al Milan, però ovviamente è un giocatore che nella zona centrale del campo ha giocato in tutti i ruoli. Super interessante, secondo me, fisicamente vediamo che è un metro e 86, quindi alto per 73 kg, quindi no, non è il nuovo Batista di Animal, però ragazzi sicuramente è un giocatore fisicamente strutturato. Passiamo a qualche statistica media stagionale, ci focalizziamo sulla colonna di destra, statistiche riguardanti la passata stagione, quindi più statistiche, più ciccia da analizzare. Partite totali giocate, 36, due gol, 5 assist. Un bottino non entusiasmante, però contestualizzato in quella che è la realtà del Bordeaux, squadra di metà classifica che ha segnato in totale 42 gol, solo due in più rispetto a quello che il Nimes o il Nime, amici francesi, correggetemi se ho sbagliato la pronuncia, quindi bottino alla fin fine di tutto rispetto. Medie per partita, 1,19, passaggi chiave per partita, media, media, cross 0,83, 17% di effettività, ci interessa poco perché andrà a giocare nella zona centrale, duelli 14, questo sì, ne vince circa la metà, buona statistica, duelli aeree 1,81, abbiamo visto è alto, ne vince il 49%, dribbling 3,3 in media per partita, 71% di effettività. Qui sicuramente già le orecchie si addrizzano perché vediamo che palla al piede effettivamente il giocatore forse qualcosa la sa fare, però approfondiremo il tutto successivamente. Contrasti 4,6, 47% di effettività. Quindi un giocatore interessante, sicuramente tecnico, che nei duelli sa il fatto suo, palla al piede. Sicuramente abbiamo avuto un primo indizio che andremo ad approfondire nella nostra amatissima lavagna tattica. Qui lo vediamo impegnato in un'azione, ovviamente palla al piede. A cosa ci riferiamo? Una delle sue qualità, secondo me, è quella di creare superiorità nella zona centrale del campo. Occhio, non è il nuovo Ronaldo il fenomeno che in velocità, palla al piede, salta tutti, no, no, no. Però, attraverso giocate semplici, sicuramente, abbiamo visto anche in precedenza a livello statistico, è un giocatore che il fatto suo lo sa. Qui riceve una palla in contropiede, in un fazzoletto, se ne va in mezzo a due uomini e sicuramente continua quello che è uno sviluppo, barra finalizzazione della manovra in zona offensiva. Giocatore, da questo punto di vista, secondo me, molto interessante. Vi faccio vedere l'azione per capire meglio di cosa stiamo parlando. Lo vedete qui, ricevere questa palla, zona praticamente chiusa, però lui con due tocchi se ne va per continuare lo sviluppo di questa. Manovra offensiva. Abbiamo visto giocate interessanti, giocata che si ripete relativamente spesso durante il corso dei 90 minuti. Ma, per quanto riguarda quelli che sono i passaggi, anche questo Lazzarone sa il fatto suo. Perché mi hanno colpito due dei suoi assist, se non ricordo male, sono stati effettuati attraverso lanci lunghi. Ma ragazzi, lanci lunghi, precisi, tempismo corretto. Qui, in questo caso, vediamo dare una palla in profondità molto interessante verso l'inserimento di un suo compagno di squadra. Ragazzi, un gol che costruisce praticamente per l'80% Adli. Giocatore che, all'apirlo, rimanendo in chiave Milan, in questo caso, vede giocate che altri giocatori, soprattutto della sua età, non vedono. Questa è una roba molto interessante perché, considerando la giovane età del giocatore e considerando il fatto che, appunto, se tutto va bene, dovrebbe migliorare per quanto riguarda diversi fondamentali tecnico-tattici, da questo punto di vista è già. Sulla retta via vi faccio vedere la giocata per capire meglio di cosa stiamo parlando. Riceve lì la palla in una zona teoricamente anonima, ma legge bene il movimento del compagno di squadra, che concluderà, appunto, in rete. È piaciuta la giocata? Andiamo oltre perché, ovviamente, dobbiamo parlare anche di quello che è il suo contributo per quanto riguarda il passaggio a corto raggio, soprattutto in zona tre quarti, dove le giocate devono essere più rapide, occorre più visione. Anche da questo punto di vista, Adli sa il fatto suo, perché per quanto riguarda, appunto, il passaggio sul corto di prima in velocità, un giocatore semplice, però abbastanza intelligente. In questo caso, riceve una palla dalla sinistra, lo stesso giocatore che effettua il passaggio. Si ripropone centralmente Adli di ritorno di prima passaggio, che porta ad un tiro del compagno di squadra. Quindi, anche da questo punto di vista, un giocatore che, tecnicamente, ripeto, se è il fatto suo, e tatticamente risulta essere abbastanza intelligente. Passiamo oltre, però, perché, come sempre dico, mannaggia la miseria, non vorrei dirlo, ma devo dirlo, non è tutt'oro quello che luccica. Cosa il giocatore non fa bene? Di nuovo, torniamo all'aspetto del gioco in zona tre quarti, che è quello che interessa al Milan e ai milanisti. Per quanto riguarda la conclusione, il buon Adli c'ha un benedetto vizio, c'ha una benedetta abitudine, che io non mi spiego, di ci abbattare i tiri. Ora, non è che fa schifo quando deve tirare, anzi, ha segnato anche gol di pregevole fattura, però c'ha questo tiro che, spesso, di piatto, va sempre verso la zona sinistra del campo, esce sempre verso la stessa zona. In questo caso, inizia un'azione interessante, va a ricevere un passaggio di ritorno del suo compagno di squadra, c'ha battata, palla a lato. Però, se volete, ve la faccio vedere, così chiariamo meglio ogni aspetto di questa azione. Lo vedete lì, ricevere questa palla, ragazzi, porta praticamente aperta, però il tiro, come vi ho fatto appena vedere, è da rivedere. Scusate il gioco di parole, ma da questo punto di vista, secondo me, può e deve migliorare. È giovane l'età, è dalla sua, però se dobbiamo trovare un neo, per quanto riguarda quello che è il gioco di Adli, in zona offensiva, sì, secondo me, la conclusione, ripeto, è da migliorare. Però, come sempre, sono curiosissimo di sapere la vostra opinione, come sempre, lo spazio qui in basso, nei commenti, a vostra completa disposizione, ragazzi, eh? Divertiamoci! L'analisi di oggi finisce qui, come sempre, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un like e condividetelo se vi va, è stato un piacere enorme, come sempre, passare questi minuti con voi, un salutone e al prossimo appuntamento. Ciao! Ciao!